Bella strada Fabio! Che bello, che bello quel momento, buongiorno Fabio! Lo sapevo che è una tappa importante, viene dopo la cronometra, quindi ieri si è speso tanto. Due belle salite nel finale, è una bella tappa. Oggi arriva in salita e stiamo bene. Ora bene, la guarderemo dopo, l'ultima salita è dura e guardiamo. Ci siamo ormai. E' la mia salita! E' la mia salita! Il giro di Carolina è 15!